Arriva il pallone di Viola, colpo di testa a rete, il vantaggio del Benevento, Puskas, il gol di Puskas, Benevento 1, Frosinone 0. Garic dal fondo, la rovesciata e il gol, fantastico, del 2 a 1 di Cone, Bologna in vantaggio. Nel rimbalzo però Castro, ancora Almiron, punta dritto, entra in aria, Almiron prova a liberarsi per il tiro, Almiron rete, è l'uomo del match, Sergio Almiron, 2 a 0, due gol per lui. Palla in area di rigore, il movimento sull'esterno di Etemai, la mete per Paloschi, colpo di testa, gol, ha segnato il Chievo, il Cagliari perde in casa, 1 a 0, Paloschi è l'uomo del momento, in casa Chievo. A parte Gabbiadini, sinistro forte, niente da fare per il portiere, il gol di Gabbiadini per il 2 a 2. A favore del Catania batte Gomez, va lì in mezzo, Bergessio, rete, ha raddoppiato Bergessio, il Catania ha ribaltato tutto, il Catania vince, 2 a 1 sul Genoa. Attenzione a Viola, Viola col sinistro, palo, palo di Viola, sull'ultimo tiro, ancora Viola porta il cross, colpo di testa, rete, rete, c'è Ravolo, c'è Ravolo, ha segnato il Benevento. Il Benevento, all'ultimo pallone vince. Lodi al 39esimo, calcio di punizione, Lodi, palla che scende, rete, Lodi un capolavoro e ancora Catania in vantaggio, una partita infinita. Grazie. Grazie.